Buongiorno, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, è domenica 29 aprile, oggi c'è la gara di campionato, seconda fase del campionato categoria allievi tra le squadre Virtus Castelfrentano e a tessa Mario Tano, da questa parte c'è il blocco dei titolari, c'è il mister Gabriele, sta facendo fare gli esercizi di scaldamento ai nostri ragazzi, qua in fondo c'è Matteo, il portiere, oggi non c'è il dodicesimo e questi sono i ragazzi della panchina, una panchina corta, l'arbitro è di Chieti, della sezione Aia di Chieti, là in fondo con la maglia rosso, con la divisa rosso-nera c'è la tessa Mario Tano, qua c'è i dirigenti, è la quarta gara di questa seconda fase di campionato, noi siamo reduci da tre sconfitte consecutive e speriamo oggi di rifarci, fra pochi minuti inizierà la gara, ore 11, alla prossima ripresa.